Cosa scrivevano i papi, eccolo qua, imprime i tibris e i fuit, eccolo qua, guarda questo simbolo del Tevere, col dito, guarda il dito, Clemente Ottavo, niente meno, Utre Audaxe nona calente Giannarius, 900, 990, 90, 100 me lo dici 9, 90, 98 tutto questo riguarda il grande fume Tevere si nasce l'arabia, un po' d'attività